Se ti piace la frutta Siamo in primavera Ellie è salva finalmente Che c'è? Finalmente Joel sta bene Così sembrerebbe Ok piccole spezioncine Prima però eh Ce ne sarà un'altra Spoiler Che dici eh? Oddio Mi ricorda qualcosa Mi ricorda qualcosa Random Bene Ok godo L'altra notte ho sognato di volare Però non penso funzioni Con gli infetti O meno con i clicker La Come si chiama? La bomba Fumogena Fammi controllare un attimo su Non è accessibile Bellissimo Fantastico Ho sempre voluto fare un viaggio Stando lì sopra E non rischiando niente Purtroppo è un sogno Che non si è mai avverato Uffa Qua sotto Cosa mi dai? Aspetta L'ho visti L'ho visti L'ho visti Minchia sono un bel po' però eh E' erano tutti pezzi da uno Però erano tanti Anche ne meandri Più nefasti Niente No Andiamo Fedra Mi stanchezza Vabbè Sali vai Nell'ospedale Non ci aveva parlato la luce Forza piccola Scendi Dai Grande Sali barcollava Bighello nava Oh Stiamo mica a perdere tempo qui eh Sì Team party Va bene Team party Ok Non è ancora il momento delle molotov Ma lo sarà presto Comunque Tagliamo no? Qua non c'è niente Che bella colorazione Così di giorno Per l'ultima parte Che bello Adoro Graham Potrebbe essere Ashley la modella O il cantante De Depeche Mode No Mi fido di questo Il prossimo sarà un kit medico Per forza Tanto qua Di bende Abbendiamo Che battuta di merda E Come sempre L'alcol Che ci Perseguita Anzi Siamo noi Che siamo Meramente Perseguitando L'alcol Vabbè Non è una cosa Una novità Per me Che ci sono Che oggi Sei più silenziosa Del solito Integratori Scusa No Non è È tutto a posto Ed esplosivi Quanto sono Di integratori 25 Voglio aumentare L'oscillazione Arma Perché poi Si rivelerà Molto utile Ci siamo Ellie Oh Sveglia Ellie Cosa Andiamo La scala Dai Ci sta Andiamo 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 Mi sento già dei rumori Che non mi piacciono però Su Che succede? È drogata È impazzita È fuori di sé Che cazzo gli è successo? Ok che ha sentito un rumore Ad essere tutto tutta Spaventata ogni rumore che sente Però calma siamo in due C'è da un cazzo Qua non c'è il kit medico dentro no Ma cosa? Cosa hai visto? Forza Muoviamoci Ah le giraffe Belline Marty Melma E gloria Senza dimenticarsi di Alex Wow Sì però un attimo eh Aspetta un attimo Aspetta un secondo eh Aspetta un secondo valore E' un'acqua Città Se non muoio prima Dove sono finito? Ok Aspetta però vado a rifare Una perlustrazione prima però Gogliamoci la scena Guarda che gli parlo Gli parlo Gli parlo tranquillo Allora E' interessante come ti aspettavi? E' i suoi alti e bassi Ma Il panorama non è male Ok aspetta un secondo eh Lo so che ho rovinato il mood Ma io devo anche poi sopravvivere Perché Non pensate che sia tutto finito qui Non è tutto rose e fiori Purtroppo Però non vorrei neanche che tu mi facessi tornare indietro per niente Cosa che mi hai appena fatto fare Grazie A questo punto il momento L'ho rovinato per colpa tua Per me era colpa tua Grazie gioco Per non darmi niente Ne posi dove mi aspetto qualcosa Te ne sarò molto grato Ok Allora Togliamoci di culo C'è qualcos'altro che devo dirti? Non posso neanche spegnere la torcia Sì Adesso sì Preciso Non siamo obbligati a farlo Questo lo sai però Abbiamo altre opzioni? Tornare da Tommy E Farla finita con questa cazzo di storia Dopo quello che abbiamo passato Dopo tutto quello che ha fatto E che abbiamo fatto? Non può essere tutto inutile Addio Marty Io sto pensando alle giraffe Scusate Devo un po' rendere Meno drammatica la cosa Ok scendiamo giù Ammesso che tu ne esca viva Non me ne vado senza di te Perciò muoviamo Nooo Però davvero Potevano tornare indietro E' vero che poi Il gioco non avrebbe avuto senso Però a giorno non ci ha visto male Per niente male Con il bagno che mi dai? C'è un fumetto? Sì Rally Ho trovato un altro di quei fumetti Oh sì Quanto gliene importa? Mi manca tre quarti d'alcol Per un kit medico Ma so che sarei buono con me Infatti eccolo qua Adesso manca solo un quarto d'alcol Dai Dai Lo so che puoi essere buono con me E' aperto Da tutte e due lati Quindi vamos Oh Che posto gigante Questo posto Da dove cominciamo? Che cosa? Università C'è se dopo che cominciarono i casini Ero in un centro di soccorso come questo Ovunque guardassi Vedevi Vedevi famiglia a pezzi Che bella parte rilassante che è questa Adoro Avevi già perso Sara Sì esatto Non toccare quell'argomento Non riesco a immaginare cosa vuol dire perdere qualcuno che ami così tanto Cosa voglia a dire Congiuntivi Mi spiace Tutto che è lì Però Dopo quella strigliata che Ellie gli ha fatto Andrano con Tommy E' l'unica persona con cui riesce a parlare veramente di questa cosa Ci va a passare sotto Ok C'è Il coso lì Dove poter passare Scusate Dove poter passare Dove poter modificare le armi Però adesso Piccola Misera per l'ustrazione Perché adesso ragazzi Ogni volta che si mette mano all'arma E' determinante Modificare una cosa Invece che un'altra potrebbe avere un riscontro in futuro Quindi massima attenzione Tanto l'alcol ce l'abbiamo Per un kit medico perfetto Sì ma non devo usarla adesso zio Andiamo dentro qui Cosa c'è scritto Diposito servizi medici Bellissimo Ho finalmente tanto alcol dove E' richiesto esserci l'alcol Adesso ha senso Integratori E' lì una bellissima Cassetta attrezzi livello 5 Sì Exactement Attrezzi del mestiere Trofeo guadagnato Godo Vedete che avevo ragione Sul perlustare un pochino di più Non è stata assolutamente Un'idea sbagliata Se non morissi prima Credo che sia un buon posto Per lavorare 83 E 5 Di coso Di livello Quindi in realtà potremmo fare tutto Fucile a pompa Capacità caricatore Non vorrei averlo sprecato Insomma costava 50 Cosa posso fare Vediamo Beh dai direi velocità di fuoco E' molto importante Questa arma deve fare molto male Vamos Vi dico già che da come sta andando la storia Non possiamo purtroppo finire il gioco Avendo tutte le armi E tutte le abilità personali potenziate Però Manco ci si può lamentare alla fine Dritti nel pullman Cosa? Tieni Me l'ha mostrata Maria E io L'ho rubata Spero non ti dispiace Ma cos'è? Ah Non dovevi Però questa volta la prende E non dice niente Beh Ormai Una cosa l'ho capita Dal passato Non si scappa Eh si cioè Grazie Invece A Tommy gli disse No grazie Vabbè capitolo Puramente esplorativo Tranqui Tranqui Ma tanto Il peggio deve ancora venire Ne sono sicuro Eccoci qui Nel tunnel Cosa intendici?